Siamo a Morreale, una straordinaria partecipazione di popolo, di devoti per rendere omaggio al Cristo crocifisso. È una cerimonia che si ripete ogni anno, nel mese di maggio, e alla quale ho voluto quest'anno portare l'omaggio del Governo regionale, con l'amministrazione comunale, con la rappresentanza parlamentare, con le confraternite, con tanta gente che torna a guardare al futuro con rinnovata speranza. Davvero una cerimonia di forte spinta emotiva. Ci sentiamo tutti pienamente coinvolti. Guardiamo al futuro con rinnovata fiducia.